Una innovativa piattaforma di comunicazione del rischio, scaricabile gratuitamente sul cellulare, che consentirà ai cittadini di fruire dei servizi di allertamento per rischio idraulico, rischio frane, temporali forti e precipitazioni attese. Parliamo di LibraRisk, una nuova applicazione che sarà presentata lunedì al comune di Nocera Inferiore. LibraRisk ha una doppia funzione, è una libreria digitale per la diffusione dei piani comunali di emergenza, permettendo una consultazione interattiva e multimediale dei contenuti dei piani, dalle aree e scenari di rischio alle risorse di protezione civile anche offline. L'app prevede inoltre un servizio di allertamento su due livelli, notifiche sulle previsioni del bollettino di criticità idraulica e idrogeologica e di vigilanza meteorologica del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e avvisi comunali, quali sono le aree a rischio sul territorio, che scenari si possono sviluppare, quali comportamenti adottare per essere più sicuri, sono previsti situazioni di allerto e emergenza. Queste sono le domande a cui l'applicazione darà risposta. A partire dal mese di settembre sarà possibile consultare interattivamente anche i contenuti del piano comunale di protezione civile di Nocera Inferiore.